Cici perché io sono sfortunato, tutti quelli che tocchi io si muorono. Quando sono l'altro mi sta morto la lavatrice. Per la vita? No signor, quelli che ha la calma di croce. Quelli che ha la lavatrice. La lavatrice! La lavatrice! Come sono nati? Sono cacciati prima la cucitella e dopo tutto il resto. Ma la bambina l'ha chiaffata no? Quando mi ha toccato, PUM! E le potrebbero fare questa morta. Io sono cascati per metterle, sono sbattute la goccia e esso sono armati. Pieni di ditti sono armati. Opa! Opa!